segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te beh è proprio il tipico understatement femminile quello che emerge da tanti racconti invece queste donne della resistenza sono protagoniste di un passaggio epocale la prima cosa da ricordare è che non era mai accaduto nella storia del nostro paese che così tante donne di tutte le età e di ogni classe sociale entrassero in massa nella grande storia le donne cominciano a impegnarsi sin dall'armistizio dall'8 settembre del 43 si dedicano al salvataggio di tantissimi soldati che sono sfiniti dalla guerra li nascondono li rivestono per evitare che debbano tornare al fronte con i nazi fascisti o essere spediti nei lager e da qui parte una grande avventura di coinvolgimento che poi possiamo considerare anche il primo passo di una lunga marcia di emancipazione delle donne che continua poi nel dopoguerra perché mentre combattono i nazi fascisti attraverso anche la più grande organizzazione che viene proprio promossa e coordinata da donne grandissime donne antifasciste come Ada Gobetti i gruppi di difesa della donna tutte queste partigiane oppure donne che semplicemente fornivano attività di supporto logistico vengono in qualche modo alfabetizzate rispetto ai diritti fondamentali allora si portano avanti alcune istanze fondamentali come il diritto a un'equa retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro oppure si porta avanti la battaglia per il diritto di voto e per la possibilità di essere elette e quindi vediamo che tutta questa storia in qualche modo va a fecondare a nutrire quello che sarà il dopoguerra anche se ovviamente il patriarcato sopravvive in gran forma alla fine del fascismo per cui nel dopoguerra alle donne toccherà continuare a combattere ovviamente con mezzi pacifici all'interno delle istituzioni e nei corpi della società per portare avanti una liberazione per compiere una liberazione e per una trasformazione della società che mi pare sotto gli occhi di tutti non è ancora completa. Tobagi, mentre lei parlava la regia ha mandato anche le immagini di Giorgia Meloni perché se le donne della resistenza avevano in qualche modo fecondato l'Italia repubblicana noi abbiamo dovuto aspettare però il 2022 per avere una prima presidente del consiglio donna e peraltro con un tipo di leadership che non è detto che tenga, e c'è dibattito su questo vorrevo la sua opinione in tal proposito che tenga insieme il tratto femminile con la rivendicazione tipica del femminismo. Che leadership è quella della prima donna presidente del consiglio? Beh, io direi che è accaduto in Italia quello che è già accaduto in altri paesi come per esempio in Gran Bretagna dove la prima donna premier fu Margaret Thatcher ossia si affermano leadership femminili all'interno di partiti conservatori e sono scalate al potere che hanno un segno profondamente individualistico per cui si tratta di donne all'interno di forze politiche fortemente conservatrici e che non si muovono all'interno di un movimento collettivo per cui possiamo dire con una piccola provocazione sono in qualche modo donne che si affermano all'interno di uno stile di potere che resta tutto maschile e patriarcale infatti se noi guardiamo una forza come Fratelli d'Italia non c'è una collegialità di donne e anche se noi guardiamo ai discorsi, al programma non sono presenti come tratto forte e caratterizzante delle politiche per un'emancipazione femminile ad ampio raggio ovviamente io spero di essere smentita dai prossimi mesi e anni di governo Se ci fosse Giorgio Meloni sul dipanetto rosso di Tagadale risponderebbe che loro sono per il coefficiente della natalità che anche su opzione donna si hanno inserito il coefficiente del numero di figli e che lei sta lavorando per far rompere a quante più donne possibile il tetto di cristallo citato nel primo discorso Attenzione a non appiattire il femminile per esempio sulla maternità Ma qui la volevo, il mio era un assist E poi è importante anche ricordare per esempio che nel discorso inaugurale è insomma sentire una premier donna che si limita a ringraziare le donne per il sacrificio silenzioso in casa quindi per farsi carico di tutto quel welfare informale che tiene in piedi il paese perché in assenza di strutture sufficienti si occupano non solo dei bambini ma per esempio anche degli anziani Ecco, io mi aspetto da una leader politica di fare invece un discorso serio per integrare un welfare per un'autentica parità Senta, voglio ritornare a un passaggio del libro a proposito della parità conquistata perché le donne che lei racconta hanno dovuto anche conquistare una credibilità e un'affidabilità da parte dei maschi che combattevano nella loro stessa direzione Lei lo spiega nel libro E poi dice Le donne che hanno scelto la lotta antifascista si adoperano perché la disperazione generata dalla fame si incanali in iniziative di significato politico Quando ha scritto queste righe a lei è venuto in mente il paragone con le donne che in queste stesse ore in Ucraina stanno gestendo problemi simili che stanno combattendo contro la fame che danno significato politico a una battaglia che magari è più silenziosa e meno militarizzata però esiste? Guardi, è quasi difficile riuscire a comunicare quanto sia stata potente per me la coincidenza cioè trovarmi a lavorare a scrivere questo libro mentre nel cuore dell'Europa tornava la guerra per cui certo che le risonanze sono state tante sono state fortissime perché noi abbiamo visto appunto che anche le donne sono coinvolte nei combattimenti e un tratto appunto come lei giustamente sottolineava che poi caratterizza proprio e qualifica il contributo femminile è che combattono in tantissimi modi diversi combattono con e senza le armi e questo forse è proprio uno specifico del contributo femminile per cui noi vediamo che come appunto dal 43 in poi ci sono tante attività che vanno dallo sciopero a persino ci sono dei racconti molto divertenti di come le donne fanno propaganda politica mentre sono in coda mentre sono in coda con le tessere per avere quel minimo di cibo che si può avere e poi come ci sono le rivolte per il pane allora noi vediamo che drammaticamente queste cose si ripetono ma forse l'elemento positivo che noi possiamo cogliere è sempre questo elemento forte delle donne che sono una leva fondamentale non solo nella resistenza ma soprattutto nella ricostruzione del tessuto sociale e questo è vero in Ucraina come è vero in tante altre parti del mondo come è vero probabilmente le leggo questa notizia che è ora sul Corriere della Sera Tobagi proteste in Iran impeccato il 23enne agenti questa tra virgolette la denuncia dei medici iraniani agenti sparano sui genitali delle donne in corteo con i fucili a pallini anche le proteste in Iran ci raccontano di una resistenza femminile di un ruolo delle donne nel provare a riscrivere la storia di un paese di una società Alessio noi dobbiamo anche però grazie a tutti grazie a tutti